Grazie a tutti. Tra l'altro al termine dell'Emilia V. Giuseppe di ieri notte che ci hanno fatto fare le ore molto piccole, quindi sono un pochino stanco, però generalmente Teneramata sveglia e quindi però chiedo veni in anticipo specialmente per chi vede il video. Se ogni tanto mi si chiuderanno un po' gli occhi oppure mi scapperà qualche, ahimè, non molto edificante sbadiglio. Mi dispiace tanto quando capita, però abbiate sempre tanta pazienza perché la sera delle volte si combatte contro la stanchezza. Del resto, soprattutto per chi segue la diretta, queste catechesi non possono farsi in una delle differenti perché il nostro attuale contesto socioculturale, economico, anche se vogliamo, non consente altri momenti. Perché in altri momenti possiamo raggiungere un target più limitato di persone perché ordinariamente si lavora e quindi anche in parrocchio quando si fanno gli incontri di formazione si fanno la sera, sempre alle 9 o dopo alle 9. Allora, ci siamo lasciati in purgatorio la settimana scorsa con tutta quanta una serie di istruzioni sulle riparazioni post mortem. Vedendo soprattutto quanto si soffrirà, siamo conclusi così, quando Dio non voglia si dovesse vedere o che a causa nostra abbiamo collaborato a far diminuire il grado di gloria di qualche beato o addirittura avessimo collaborato alla dannazione di qualcuno, che è una cosa veramente brutta. Quindi purtroppo, amici cari, rassegniamoci perché io tremo, perché tra l'altro sono pure un prete, quindi immaginate, cerchiamo di combinare meno guai possibili, per questo mi auguro sempre di combinare il meno guai possibile, che già sarebbe un grande obiettivo, e di fare per quanto possibile un po' di penitenza qui. Quindi, ecco, anche se i danni fatti, purtroppo, che dobbiamo fare? Se io vedo essi Dio non voglia, per cooperato alla dannazione di qualcuno, non spero volontariamente con qualche cretinata o stupidaggine detta come sacerdote, perché insomma mi farei tagliare le mani e i piedi, piuttosto che fare una cosa del genere. Però, magari involontariamente, come potrebbe succedere da un prete, un giorno uno sta non troppo al 100%, magari arriva una visita, tu magari sei un po' sgarbato, quello magari stava già mezzo mezzo lontano, anziché diventare un'occasione di vicinanza, sei stato sgarbato, magari quello sei andato, contrariato, e buonanotte. Questo potrebbe succedere, questo qui, che qualcuno se ne va dall'inferno perché ho detto un'eresia, mamma mia, tutto è possibile, insomma, ma spero che non accada mai. Però, ecco, vedete, che il diavolo ci possa prendere la sprobbista che usi la nostra debolezza o il fatto che purtroppo sempre al 100% non è possibile starci sempre alla perfezione, magari. Questo potrebbe succedere purtroppo. Preghiamo, speriamo che non accada a nessuno. Allora, riprendiamo la lettura, dopo queste amare rievocazioni, terminando il discorso di Tene la Mata sul Purgatorio, che a un certo punto è dovuto mettere punto, come dice Luisa Piccarreta, perché altrimenti sarebbe protratta troppo a lungo la conversazione, che già quando arriva intorno a un'ora è troppo e non riesce a protrarla oltre. Casomai è un po' più breve. Ecco, appunto, tanto per come voleva si dimostrare. Bene, riprendo la lettura. In Purgatorio si correggono le cattive abitudini e si acquistano quelle della patria. È molto facile dire tutto questo, ma è molto difficile e afflittivo realizzarlo. Amici cari, è difficile e afflittivo. Chi ci vuole bene, ricordate sempre che ci dice la verità, non ci dà illusioni, capite, a basso costo. Difficile e afflittivo. Perché sia più caro, sentite, ti racconto ciò che mi accade nell'ultima tappa del mio Purgatorio. Tene la Mata si è fatta un sacco di Purgatorio, è quello che racconta qui. Avevo già soddisfatto la divina giustizia per tutti i miei peccati. Ormai scorgevo l'immenso amore del nostro Dio verso di me. Incominciavo a intravedere il mio nome nuovo e la mia dote di manna segreta. Mi trovavo purificata, ma ancora non conoscevo il mio posto preciso nel cielo. E ancora non confidavo pienamente nel Signore. Interessantissimo, eh? Interessantissimo perché questa piccola descrizione ci dà un po' un'idea, un'idea discreta, di come può essere fatto sto Purgatorio. Soddisfatto la divina giustizia, comincio a scorgere, vedete, come c'è un processo di avvicinamento graduale, no? A quell'amore infinito che è Dio. Si comincia a intravedere, no, non lo vedo ancora tanto bene. Ero purificata, ma non conoscevo ancora il posto che avevo nel cielo, il mio posto preciso nel cielo, no? Dice, il mio angelo istruttore mi portò al luogo dove io avrei dimorato principalmente nella gloria. Anche questo dettaglio è ameno, è bello, è pittoresco. Dice, qualcosa diciamo come il mio rifugio, domicilio celeste. Perché devi sapere che ogni beato possiede un luogo molto intimo e personalissimo dove realizza i suoi più cari amori. Quella sorte che dice, quando avremo lasciato questo corpo, dice San Paolo, riceveremo un'abitazione celeste nei cieli, no? E qui, perché le nostre categorie mentali, non è se abbiamo l'appartamento in paradiso, però qualcosa come il mio rifugio è domicilio celeste. E c'è qualcosa del genere, lo dice lei. E che cos'è? È un luogo riservato, ecco, diciamo così, dove si possono vivere e realizzare gli amori, gli amori celesti, li ho visti tante volte, con tutte quante le anime che il Signore ci ha affidato. Verso le quali ci ha seminato la scintilla reciproca d'amore, no? La famosa scintilla d'amore. Allora proseguo la lettura. Ebbene, io mai avevo viaggiato in aereo per paura delle altezze. Grande fu il mio panico quando l'angelo mi fece salire al firmamento. Vedete anche qui, io già mi immagino alcuni dottoroni, sapientoni, intelligentoni e compagnia cantante, no? Salire nel firmamento, quindi sembra ratificata l'idea di origine molto molto arcaica, molto antica, è che il paradiso stia in alto. Il famoso settimo cielo, no? Del resto San Paolo quando scrive nella seconda lettera di Corinzi, le sue esperienze mistiche, dice è rapito col corpo fuori dal corpo, non lo so, Dio solo lo sa, fino al terzo cielo. C'era la strutturazione dei cieli, no? Questo c'era già nella filosofia greca addirittura, prima ancora che nel cristianesimo, no? E nella tradizione anche ebraica, vedero, testamentari. Allora, grande fu il mio panico quando l'angelo mi fece salire sul firmamento. Ad operare uno spazio-tempo del mio corpo adulto, vedevo la terra ogni volta più piccola, verdastra, che si allontanava da me con somma rapidità. E siccome non ero ancora glorificata, ma in fase di allenamento, sentite, per acquistare i costumi celesti, troppo bella stanza, era poco quello che capivo. Perché è fortissima sta frase. In fase di allenamento per acquistare i costumi celesti. Cioè, capite? Noi dobbiamo sgrezzarci un po'. E' come quando una persona, questo capita già in questo mondo, no? Quando una persona comincia un bel cammino di santificazione, è bellissima che la stessa doti, no? Vedere come piano piano l'anima comincia a sgrezzarsi, quindi lascia la crosta, come dire, mondana, grossolana, no? Grezza, appunto. Che può essere anche un'anima bella, un'anima buona, ma si vede che è in forma e grezza. Mano a mano che il Signore lo fa camminare, si sgrezza, quindi si raffina sotto vari punti di vista. E' una cosa analoga avviene per quanto riguarda l'acquisto delle abitudini celesti. Quindi c'è una purificazione graduale e una raffinazione graduale, no? Sono processi che, a quanto è dato da capire, vanno di comune accordo, no? Vanno in concomitanza, meglio. La mia abitudine radicata di confidare in me, anziché nel nostro Dio, aumentava il mio timore. Ha già detto prima, non ero ancora perfettamente purificata, perché ancora non confidavo pienamente nel Signore. E questo possiamo impararci. Questo possiamo impararlo a fare da qua. a proprio abbandonarci e confidare totalmente nel Signore, no? Pensate quando dobbiamo fare le scelte di vita impegnative, piccole e grandi, no? Un cambio di abitudine, un cambio di direzione, un cambio di prospettiva, no? Una cosa che potrebbe comportare delle difficoltà, delle critiche. che faccio, lo faccio, non lo faccio. Butta, difidati del Signore. E solo se si è conoscire così, sapete che c'è quella, quell'hashtag, quella frase, diventare tristemente nota in tempi poco lieti, no? Andrà tutto bene. No, andrà tutto bene solo a chi confida nel Signore. Non andrà tutto bene tanto, tanto per dirlo. A chi confida, ti andrà bene è un'espressione tipica dell'Antico Testamento. Si trova tante volte. È proprio un'espressione, una costruzione proprio tipicamente ebraica, proprio da scuola. Ma andrà bene a chi? A chi confida nel Signore. Non a chi c'è uno stolto ottimismo immotivato. Perché non è andata bene per niente. Ecco, per quanto riguarda un'altra questione, no? Ecco, chiusa, ovviamente non andiamo adesso ad affrontare l'altra questione che ci ha importato con niente, no? Quindi andiamo a vedere delle cose un pochino migliori. Quindi, credevo che sarei precipitata da quelle altezze. Questa non confida nel Signore dice, mo casco! Inoltre mi terrorizzava il buio totale. Vedete, proprio, cioè, questo, cioè, il buio totale significa, se uno parla con gli astronauti, cioè, quando uno fa un viaggio, fa un viaggio spaziale, è, se tu ti allontani dalla Terra, quindi esci dal, come dire, dallo spettro, diciamo così, di illuminazione dei raggi solari, lo spazio è cupo, è nero. Non c'è niente. Quindi mi terrorizzava il buio totale, malgrado l'insistenza del mio angelo che mi rimproverava la mia mancanza di fiducia nell'Onipotente. Immaginate questa, no? Che sta a salire. Sta tutta tesa, sta tutta agitata, sta tutta, sta tutta bloccata, no? Conosco un pochino di, 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 di anime, e anche di animali. Io ho un gattino che, che cosa, sta sempre tutto agitato. Non si, o nonostante il bene, più giorni passa, facciamo una confidenza, e più bene mi vuole, no? Poi stasera ha fatto delle cose inimmaginabili, però l'abbandono ancora non c'è, capito? Quindi sta sempre agitata, quindi non si rilassa, rilassate. Conosco anche anime umane che sono così. Rilassate, relax. Stai nelle mani del Signore, stai. Ecco, questa non si rilassate, stai a fare sto viaggio, tutta agitata, tutta, ecco, calma, tranquilla. La tutta che non è ancora finito, eh. Lo spavento giunse al colmo quando superai la velocità della luce. Cioè, è te credo, diciamo noi. Ragazzi, la velocità della luce, non dimentichiamo, è 300.000 km al secondo. Al secondo sto a mettere le mani davanti, cioè capite? Ridiciamo sempre le stesse cose, facciamo una simulazione, ora spengo la luce qui, no? Uno, ecco, sta luce che si è accesa, ho contato a uno, ho fatto cinque volte il giro della Terra, queste sono 300.000 km al secondo. Cinque volte il giro della Terra, diconsi cinque. Anzi, mi ricordo la sua fila della Terra, è da 50.000 o 60.000, 60.000 km. Insomma, adesso 60.000, cinque volte, adesso 50.000, sei volte. Comunque, più o meno, insomma, no? È tanto. Al secondo, come vedi, le cattive abitudini terrene rendono inferiore, rendono difficile imparare quello che è in uso nel cielo. in che senso cattive abitudini terrene? Certamente non fa riferimento, perché qua sulla Terra non è che possiamo imparare ad andare alla velocità della luce, no? però qui sulla Terra possiamo imparare ad abbandonarci nel Signore e confidare in Lui. E questo sì, questo sì, perché se confidi qui, poi confiderai pure quando viaggi, confiderai anche quando viaggi alla velocità della luce, no? Anche se non sia ancora pratico. Ecco, perché ci pensa il nostro Signore, non dobbiamo avere mai paura di niente e di nessuno. Allora, ma adesso è chiaro con l'assoluta fiducia che ho nel nostro Dio, viaggio a velocità molto maggiore senza nessun timore. Io pure c'erei qualche problema, perché io, insomma, ho combattuto e l'ho superato un po', ma un po' di vertigini io ce soffro, eh, quindi, eh, quindi, eh, qualche piccolo problemino pur io a far me sta salita nel firmamento ce l'avrei presumibilmente avuto, no? Allora Riccardo interviene e dice è molto difficile imparare le abitudini del treno e guardate la risposta che in parte l'ho già data. No, non è complicato. La base dell'addestramento, questo scriviamocelo, la base dell'addestramento consiste nell'acquistare una piena e assoluta fiducia nel nostro Dio. da qui, amici cari, questa educazione deve iniziare nella vita terrena, attenzione, per abbreviare o evitare il purgatorio. e che cos'è però questa fiducia? Attenzione, perché anche qui la volontà umana se capisce il vischio per fiasco va ad alterare anche una cosa così bella, così santa e così nobile come la fiducia e la confidenza in Dio. Allora, specifica subito. ma deve essere fatta d'accordo con la fede e con la F maiuscola e le molteplici limitazioni dell'uomo mortale. Fa un esempio. La vera fiducia nell'altissimo non consiste nello sperare che egli compia tutti i nostri capricci. Hai il viso del Signore e quindi assecondere tutti quanti i miei capricci strani. Poi non li asseconda e quindi la fiducia mi passa. Eh no amici cari non funziona così. Non funziona così. Ma è la sicurezza fondata sul grande amore con cui ci ama che ci darà sempre quello che è il meglio per ciascuno di noi quando e come egli lo stabilisca e sempre che ci teniamo nella sua grazia e perseveriamo nel fedele compimento e nei suoi comandamenti. Ragazzi mamma mia definizione perfettissima della piena e assoluta fiducia in Dio. Allora ripetiamo primo sicurezza sicurezza io sono insicuro c'ho tante paure non confidi nel Signore poi sta proprio tranquillo perché cosa dice la Sagra Scrittura il profeta Geremia maledetto l'uomo che confida nell'uomo maledetto non è che semplicemente che ti prendi la maledizione dell'Altissimo è una vita maledetta che pone nella carne il suo sostegno la carne il basare in ebraico una cosa che oggi c'è domani non c'è ma come fai a affidarti di te o di qualche creatura umana che te fidi quindi si può essere diffidenti diffidenti verso noi stessi magari possiamo diffidenti verso noi stessi sanamente diffidenti non la diffidenza negativa di chi sta sempre sul chivarà che ci pensa sempre che qualcuno deve stare a fregare o a farti del male questo è un difetto ma la diffidenza positiva è non confido in te perché tu sei un essere umano come me tu sei fallace sei limitato sei imperfetto avete molte molte crisi matrimoniali perché noi abbiamo tutti tutti facciamo queste cose proiettiamo cioè quando uno è innamorato non capisce niente non capisce quindi che succede si aspetta che chi c'è davanti sia la perfezione fatta carne ma quello non è la perfezione fatta carne non lo è non lo sarà mai e se tu pensi che c'è davanti la perfezione fatta carne è chiaro che sicuramente sarai deluso 100% ecco perché chi confida nel Signore non sarà deluso dice la Sacra Scrittura ah perché lui no quindi sicurezza è fondata su cosa sul grande amore con cui ci ama di cui non puoi e non devi mai dubitare e se è grande l'amore con cui ti ama lui ti darà sempre il meglio per te qualunque cosa sia fosse pure la croce più grande dell'universo fosse pure la prova più grande che a te ti sembra così insostenibile non c'è dubbio e ti darà il meglio per te cioè sicurezza che ti darà sempre il meglio per te quando e come egli lo stabilirà a suo tempo e a suo modo e a condizione che tutto concorre al bene dice San Paolo di coloro che amano Dio non di tutti perché il peccatore che vive lontano dall'amore di Dio non va non vige questo discorso qui non concorre tutto al bene per quello tutto concorre al bene per coloro che amano Dio cioè ci teniamo nella sua grazia e perseveriamo nel fedele compimento dei suoi comandamenti allora si che funziona allora funziona come funziona alla grande quindi sicurezza fondata sull'amore di Dio e quindi poiché mi ama Dio mi darà sempre il meglio a tempo e luogo e modo opportuno a seconda di come decida e a condizione però che io mi mantenga in grazia e osservi i suoi comandamenti non ripeto per la quarta volta però si deve ripetere la quarta la quinta la sesta questo è un passaggio focale proprio di 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 questo testo è importantissimo perché le abitudini del cielo le impari esercitando sulla terra questa piena e assoluta fiducia in Dio che è una cosa che si acquisisce non è innata ti racconto un altro mio aneddoto aggiunse con quello bello sguardo con quel suo bello sguardo prima della mia glorificazione sapevo bene che il mio corpo in qualsiasi degli innumerevoli spazi tempi della mia vita terrena era capace di passare attraverso le pareti senza nessuna difficoltà quindi aveva fatto una buona scuola con tutto ciò la prima volta che tentai di attraversare una collinetta mi fermai bruscamente perché prevalse la mia abitudine terrena di fermarmi davanti agli ostacoli ma adesso passo anche attraverso gli astri o capite che sono gli astri quindi se la terra ha 50.000 chilometri di circonferenza immaginate da un punto all'altro della della sfera insomma ce ne vuole un essere umano che trapassa la terra da parte all'altro ma la terra è niente in confronto a un astro o no questa passa attraverso gli astri quindi altro che quello che vedremo domenica è lunedì dell'angelo che sono gli angeli che tolgono la pietra non ha tolto mica Gesù la pietra dalla 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 della tomba della della sua risurrezione perché non c'è bisogno di togliere la pietra perché i risorti passano attraverso i muri e passano attraverso il muro anche del cenacolo no domanda di Riccardo servono a qualcosa i suffragi per i defunti ah dice della amata sono efficacissimi anche se si tratta di defunti molto antichi ragazzi non pensiamo che per il fatto che questo è morto da 30 anni ormai e chi te l'ha detto io ricordo quando l'essi Maria Sim dava dei numeri allucinanti cioè anime che stavano purgatorio da 1500 anni anche quindi gli inglesi dicono take it easy d'accordo calma noi non chi ti credi di essere che siamo Dio non possiamo sapere smettiamola per favore di sostituirci all'altissimo cioè a meno che tu non c'è una rivelazione ogni tanto nostro signore fa nascere la 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 della della situazione e ti fa se ti vuole fare un regalo arrivare l'informazione se un tuo caro è arrivato in paradiso sta ancora a purgatorio oppure no ma al di fuori di di natuzza e simili ma tu che ne sai ma mio nonno è morto 40 anni fa era una persona di chiesa lo sapete l'aneddoto di padre Pio no? lo conoscete lo racconto lo ho racconto tante volte dice che una volta padre Pio celebra la messa per il padre di un confratello perché adesso mi ricordo se era l'anniversario della morte questo padre non lo so e durante sta messa e al termine della messa lui vede l'anima del padre di questo confratello frate che va in paradiso e allora tutto contento dice faccio ringraziamento con calma poi quando lo vedo io lo dico e quando lo incontra col suo slang divertentissimo napoletano e fa voglio voglio via via che t'aggirici una cosa dice oggi ho celebrato la messa per tuo padre e alla fine della messa ho visto che andava in paradiso si contento e sto frate amico suo è rimasto come un baccalà e il padre è pure un po' stranito dice oh ma hai capito che ho detto tuo padre è andato in paradiso ma che sei contento potresti pure dirmi grazie sia perché ce l'ho mandato con la messa sia perché te l'ho detto e lui dice no 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 padre per carità non se ne abbia male adesso mi ricordo il nuovo dice mio padre è morto 30 anni 40 anni fa dice ma mia madre era un bravissimo cristiano andava sempre a messa non ho mai sentito bestemmia non urlava non ha tradito mia madre non menava nessuno hanno avuto una famiglia numerosa e padre Pio adesso non mi ricordo diede una di queste due risposte perché ci sono due aneddoti quindi comunque tanto è simile una era eh fratello mio davanti a Dio tutto si paga e l'altra era e io che ci posso fare se il padrone guarda pure il pedrone l'uovo quindi i suffragi sono una cosa importante io divento io mi avveleno senza perdere la paga quando si comincia senti a D mio padre è tornato alla casa del padre ma chi te l'ha detto che è tornato alla casa del padre addirittura è volato al cielo qualcuno mi dice mio padre è volato al cielo due mesi fa volato al cielo volato al cielo si dice proprio quei santi canonizzati che ti è tornato alla casa del padre che è volato al cielo ce le dobbiamo levare dalla testa queste cose qui io lo dico ma non è che lo dico perché mi diverto io sarei molto sarei molto contento di dire un'altra cosa di dire alle persone guarda che i tuoi stanno in paradiso rallegra ti gioisci esulta ma che mi importa a me non è che mi diverto a dire queste cose ma perché io sono un sacerdote vi immaginate un'anima del purgatorio sente un prete dire ma non ti preoccupare quella sta in paradiso quella sta a soffrire il purgatorio chi sente il prete ci crede che quella sta in paradiso vabbè sta in paradiso che faccio a Dio a fare la messa sta in paradiso è non utile che prego sta in paradiso io non lo so se certi miei confratelli che a me delle volte veramente a me a me a volte sembra che stiamo in mezzo a un manicomio una banda di matti ma ti rendi conto di quello che tu vai a ingenerare ma tu sei un prete un'anima del purgatorio ma che sei scemo io ho tutti i funerali dico sempre fatele dire messe pregate fate i suffragi non pensiate che sta già in paradiso non mi importa niente e le si arrabbiano cerco di dirglielo con tanta carità con tanta dolcezza gli spiego dico guarda che cioè per andare in paradiso uno deve morire martire per pensare che sta già in paradiso oppure deve essere un bambino battezzato che ancora non ha commesso peccati manco veniari oppure deve essere un santo di quelli proprio fuori classe ma anche santi fuori classe qualche mezz'oretta se la sono fatta nel purgatorio pure fuori classe magari un'ora due ore un giorno ma la capatina ce l'hanno fatta scusate con il livello medio dei cristiani che vivono oggi che l'altra grande maggioranza dalla gente che muore torna orizzontale in chiesa dopo che per almeno 30 anni per verticare ne è stata buona nace manca la domenica ma cosa fa a dire che quello è volato in cielo o le persone care a pensarlo cioè noi non possiamo per la nostra debolezza posso spiegare il meccanismo psicologico no cioè io già me stresso perché è morto mio padre mia madre o mio figlio o mia figlia già sto stressato figurate se mi devo pure metta a pensare che questo dopo che è morto soffre allora siccome sono io che non voglio affrontare quest'ulteriore stress psicologico perché sta meglio io penso che stanno meglio loro non so se mi spiego ma questo è un atto d'egoismo questo qui oppure i preti che fanno questa cosa qui lo fanno sicuramente voglio sperare almeno questo anche se comunque inambissibile che lo facciano per consolare l'anima diciamo un uomo gli dico che il padre sta meglio così si calma un po' e soffre di meno per dire no ma non si può non è che tu per consolare una persona puoi andare contro la verità quindi immaginatevi quanti accidenti che poi accidenti tra virgolette perché non è una forma che fanno queste cose dall'altra parte ma secondo il nostro modo di pensare a momenti te ne parli tu mori c'hai bisogno di suffragi stai messo male in purgatorio e tu vedi che tutte le persone tue care si pensano che sei volato al cielo e quindi tu te resti là fino a giudizio universale e te becchi se no la messa del primo di novembre se qualche prete continua come doveroso ad applicare almeno una per tutti i fedeli devunti poi è finito ma che pensi tu e dei predi che hanno detto questa cosa tu che pensi quindi sono efficacissimi i suffragi anche se si tratta di devuti molto antichi nell'aldilà non vengono le classiche nozioni di presente passato e futuro non esiste il legame della coscienza col momento attuale i suffragi arrivano molto opportunamente da qualsiasi data grazie al ponte immediato della quinta dimensione i tuoi atti di esistenza conservati negli spazi tempi della tua vita e le abitudini che ti farai speriamo siano talmente cristiani da non avere bisogno di passare dal purgatorio tale è il desiderio del nostro diverso di te cioè Dio non è contento che noi ci facciamo il purgatorio no il suo desiderio sarebbe di portarci in paradiso subito o quasi però non ci porterà in paradiso subito o quasi se non stiamo messi in condizioni cioè se i nostri atti di esistenza ormai dovremmo esserci familiari utilizzati con questo linguaggio e le abitudini sono talmente diventate cristiane da non avere bisogno di passare per fasi più o meno lunghe o intense di purificazione e passiamo al capitolo 31 ci lasciamo alle spalle il purgatorio questo paratempo di San Luis dice Terranamata continua è molto lento disse la mia amata compagna e l'energia vitale del tuo organismo basta appena per un millesimo di picosecondo sentite no l'energia vitale del tuo organismo lui ancora basta appena per un millesimo di picosecondo nel muoverti sia pure leggermente sentite eh consumi forze che non sei in grado di riacquistare perché la tua fisiologia di diatore non è preparata a questa lentezza paratemporale per questo ogni tanto ti tocco per così vivificarti ma adesso incomincia a non essere prudente il farlo ecco qui che Terranamata spiega perché ogni tanto gli sfiorava sto dorso della mano una spiegazione bellissima una spiegazione molto scientifica anche se noi possiamo capire entro certi limiti dice che per muoversi viaggiare dentro frequenze temporali così inesistenti per noi noi non sappiamo neanche cosa sia un millesimo di picosecondo l'abbiamo visto a suo tempo il numero uno diviso non si sa quanti miliardi no? cioè quindi non è quella dimensione adatta alla fisiologia del nostro organismo attuale il nostro organismo attuale quindi il nostro dispendio energetico eccetera funziona nel tempo normale non nel paratempo del picosecondo no? o del millesimo di picosecondo no? e allora gli dice che c'è un consumo di forze che tu non puoi riacquistare perché la tua fisiologia non è capace di farlo non è preparata ora perché sei viatore e allora ogni tanto supplico toccandoti cioè te la do io l'energia che perdi attraverso il contatto vedete il contatto quanto è importante eh? allora io ho imparato quanto è importante il contatto e così capiamo anche vorrei non vorrei fare un'altra polemica però il contatto sacramentale per esempio cioè avete visto i sacramenti si realizzano per contatto durante la cosa addirittura sono usciti che bisognava fare le unzioni battesimali e le crismazioni della cresima con l'ovatta con l'ovatta macchetto va da sta a distanza cioè un sacerdote per esempio questo oggi non se lo fa quasi nessuno quando benedice deve mettere la mano proprio in testa la persona così in testa la deve toccare con il palmo delle mani perché il palmo delle mani è consacrato la benedizione viene per contatto una bella benedizione cioè l'imposizione delle mani che non è semplicemente uno stendere la mano ma è proprio un touch tutto levato un touch io quando consacro l'ostia se avete fatto caso l'ostia per consacrare la devo prendere in mano non è che l'ostia la guardo sul corporale o sulla patena perché non potrei fare così scusate perché la devo prendere in mano potrei anche dire pronunciare la formula della consacrazione senza prendere l'ostia in mano ma c'è scritto che l'ostia si deve prendere in mano perché ci deve essere il contatto tra i miei polpastrelli e l'ostia touch quando un bambino era battezzato non è che l'acqua vabbè gliela butto vicino tanto quale no l'acqua deve essere messa e deve essere pure messa bene voi sapete che ci sono stati alcuni vescovi che hanno dovuto fare richiami in diocesi perché certi gruppi ecclesiali fanno i battesimi per immersione attenti bene no? allora che succede un bambino se tu rimmergi per immersione che stai generalmente per non farla affogà qualcuno dice ti battezzano il nome del padre del figlio dello spirito santo lo mette dentro l'acqua tre volte ma non ci mette mai dentro la testa sapete che non è battezzato non è battezzato perché l'acqua non soltanto ci deve essere il contatto dell'acqua ma l'acqua deve essere messa sulla testa che tu fai il teatrino dell'immersione se vuoi fare il teatrino dell'immersione devi dire a papà e mamma che almeno una volta lo devi immergere completamente se no non lo fa touch con touch quando io do l'olio santo si tocca nella versione antica dell'olio santo oggi come sempre oggi si ungono le mani nell'estrema unzione antica si ungevano gli occhi le orecchie il naso la bocca le mani e i piedi pure per i peccati commessi con gli occhi per la tua santa un signor una bellissima misericordia il signore ti per i peccati commessi con l'uditolo e ogni volta tocchi e segni con la croce c'è un touch nella confessione non c'è un contatto diretto ma il sacerdote deve stendere la mano quando assolve deve stendere almeno la mano destra la deve stendere e quando dici da solito il peccato deve fare il segno di croce lo deve fare con la mano il touch ok l'economia sacramentale in questi giorni il verbo è diventato carne Gesù ha sofferto mica per scherzo ha sofferto nella carne le piene dell'inferno in questi giorni qui ma adesso incomincio a non essere prudente farlo dice e perché chiede Riccardo quando tu mi tocchi se pure brevemente mi risulta molto gradevole risposta appunto per questo dopo che me ne sarò andata ti rimarrebbe la nostalgia di questa forza vitale che il tuo organismo non conosceva spasimeresti per riceverla di nuovo come succede al tossicodipendente quando non può prendere la droga è troppo bello capito? lo sfioramento cioè le due dita che sfiorano il dorso della mano procurava già questo un godimento tale che se gliene da troppo lo faccia diventare come un drogato e che cosa dice brutte notizie amici cari per questo la mia intervista con te deve finire comincia ad avviarsi verso il congetto no è finita tenere ramata quasi è quasi finita amici cari siamo arrivati a pagina 97 di 102 ci avremo un altro due un paio di puntate può darsi che facciamo Pasqua la settimana prossima poi la settimana in Albis e poi dobbiamo congettare tenere ramata per la gioia del catechismo di San Pio X e delle catechesi bibliche sull'Antico Testamento quindi l'intervista deve finire comunque quello che ti ho detto riguardante la gloria occidentale secondaria sentite è meno di un balbettio in confronto con la realtà ripercorriamo tutto tante le cose belle i liquori le pallottoline di cielo fanno a pallottolati che erano tanto buoni i baci interpenetrativi le danze dentro i pianeti gli amori universali ce ne stanno quanti te ne pare capito è il nostro signore che fa tutto quello che vuoi i viaggi interstellari le galassie ma quelle che mi vengono in mente ce ne stanno ancora sicuramente è niente in confronto alla realtà se io potessi trovare concetti appropriati immagini e paragoni evidenti per meglio realizzare la mia missione e farti comprendere con luce maggiore e la gloria che ti attende ma il cielo e la terra sono molto diversi e il loro linguaggio è molto differente meno male che passerei molto presto per il mondo e che quando meno penserai ti troverai a godere ciò che oggi entravi di appena c'è uno scarto come dire incommensurabile se noi potessimo entrare in contatto con un nostro caro che sta nell'altro mondo vivremo certamente si capisce che ho contato un'esperienza di questo genere da un lato tu lo riconosceresti perché non è che quello è completamente un'altra identità quindi da un lato per qualche cosa lo riconosceresti ma per tante altre cose non lo riconosceresti più perché non ti direbbe le cose che ti diceva qua giù ecco perché un'altra cosa salmone dico un'altra stasera un'altra cosa che io non sopporto e che è una cosa che non si deve fare non fatela io a volte da parroco mi trovo costretto a perché tutti lo fanno la regolo ma non la posso evitare sapete cosa sono le pateticissime letterine di commemorazione al termine dei funerali non fate queste cose che non solo offendono Dio secondo me ma offendono pure il devunto perché io non sentite qualcuno numero uno per quanto mi riguarda che dico sempre alt in chiesa si fa il rito sacro dopodiché accompagniamo il feretro fuori sul sagrato io ti porto il microfono senza fini e se ci tieni fuori almeno questo fai questo tipo di operazione ma io faccio così è capitato di andare a celebrare in una chiesa che non era la mia funerale di mio zio scorso agosto mio padrino di battesimo tra l'altro e chiaramente io lì non ero il parroco ho celebrato ma l'occhio mia quindi mi sono messi d'accordo che finita la celebrazione dovevo rimanere seduto lì perché si sono messi a fare le commemorazioni funebri io ho sofferto rievocazioni di tanti dettagli della vita terrena umani ma chi è morto non gliene importa niente di quelle cose lì anzi secondo me li anche infastidisce ascoltarli oltre che non è cosa da fare meno che mai in chiesa quindi non la fate questa cosa perché il cielo e la terra hanno linguaggi differenti se vuoi fare contento l'anima di un defunto prega per lui e fagli fare un po' dei suffragi non serve nient'altro se non ce n'ha bisogno andranno a qualche ania del purgatorio non serve altro non ti relazionare con loro anche quando rievochiamo i defunti loro non sono più come erano qui quindi non facciamo rievocazioni umane perché il cielo e la terra sono molto diversi e il loro linguaggio è differente molto differente teni la matale e dissi con tutta la mia franchezza io ho paura 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 dell'invalidità per i miei acciacchi di vecchio ho paura degli altri per il loro egoismo e la loro ambizione ho paura della solitudine e del dolore ho paura della morte perché non la conosco in me stesso ho paura dell'inferno che ho ben meritato con i miei peccati ho paura del mio futuro necessario purgatorio e paura di me stesso perché conosco la mia volubilità a mamma mia e dice gli dice però allora sta attento il tuo timore sarebbe fondato se ti trovassi completamente da solo senza la fede senza badere futura e senza amore ma non è così il nostro Dio ti ama moltissimo e te lo ha dimostrato nel corso della tua vita possiedi l'appoggio della fede come regalo che il Signore ti ha concesso nel cielo hai moltissimi che ti amano grandi amici che ti attendono hai avuto una mamma esemplare sulla terra che per ti è stata anche la provvidenza visibile del nostro Dio nel mondo hai un'altra mamma nel cielo l'amata del bell'amore l'amata di Dio che ti ha assistito con prevenzione e poi tieni me you have me ahimè la tua tenera amata che ti ama con sublime amore prestabilito da Dio disposta se fosse necessario a intercedere fino al colmo in tuo favore adesso va bello ricordiamo sempre che tenera amata come dice sublime amore prestabilito da Dio sulla terra la vista 5 minuti per canto della canzoncina no? e poi basta pertanto cambia il tuo timore con un'adorazione senza posa all'altissimo e con un ringraziamento senza limite ecco i due grandi atteggiamenti che abbiamo verso Dio adorazione continua senza posa e ringraziamento continuo che tanto è sempre poco non sederti al mangio della strada prendi la tua croce la tua piccola parte di dolore e segui il tuo Signore questa vita mortale dice Riccardo è angosciosa vedo la mia cattiveria e mi rendo conto dei peccati degli altri e il vortice di superbia e di egoismo sembra sommergere noi tutti in un mare magnum di iniquità leggo la risposta di tenera amata e poi chiediamo questa puntata così almeno un'altra la vivremo non sempre è così tu osservi i peccati perché in verità sono molto evidenti e numerosi ma non vedi le conversioni i pentimenti le opere di carità che pure sono innumerevoli sebbene siano invisibili nel silenzio io su questo sono un po' più fortunato di voi perché io non ho visto tante di conversioni tante di pentimenti ho avuto questa grazia persone che ho visto perché sono venute a confessarsi con me dopo aver ascoltato quello che che predicavo o persone che mi hanno scritto o che mi hanno telefonato mi hanno dette non viste tante ce ne sono tanti amici cari per questo che nonostante i tempi balordi che uno sta vivendo bisogna continuare ad avere sempre come mira principale la salvezza delle anime operare per loro perché anche mezzo a sto marasma le anime si devono salvare e anzi uno degli effetti collaterali di questo marasma causato innescato dal diamo è proprio la perdita di tante anime è enorme il potere della redenzione dice tante amata e sono molti peccatori che si convertono e diventano giusti verissimo io ne sono testimone ma purtroppo ma purtroppo e anche di questo sono i miei testimoni sono pure molti coloro che si pentono quasi nell'ultima ora o che apparentemente non si pentono quando rimane a loro ormai poco tempo per raggiungere un alto grado di gloria alla fine queste persone riconoscono di aver fatto un mal negozio della loro vita hanno voluto essere ricchi in denaro invece di accumulare ricchezze sovranaturali io mi sono i soldi o i beni ma che ce fai accumula come dice il giugno del Vangelo non accumulate tesori sulla terra sciocchi accumulate tesori in cielo che ce l'hai solo qua l'occasione per poterlo fare si sono ostinati nel cercare la suprema felicità soltanto nel bene di questo mondo e logicamente non l'hanno trovata non c'è la felicità nei beni di questo mondo se non è il primo a dirti cerca la trova la sarebbe nostro signore quindi queste anime deplorano l'aver preferito i piaceri immorali i piaceri immorali c'è bisogno di commentare i godimenti mondani così piccoli incerti fuggevoli faticosi piccoli incerti fuggevoli faticosi sapete chi si compra una barca grossa 12 metri pan dal mare bella no? sì bella ma che c'è sta dietro però? per godete un po' sta barca oh e chiappie le rimesse piva mettila in acqua cosa a destra a sinistra il porto paga entra esci cioè anche quelle piccole gioie della vita faticose cioè per goderte qualche cosa ti fai una fatica infinissimamente passa la voglia poi no? allora ricorrono alla chiesa si pentono di vero cuore e il nostro Dio li perdona e li carezza tenenamente perché sono le sue amate pecore smarrite peccato che nel cielo non danno ad altissimo tutta la lode di gloria che si attendeva da loro peccato che raggiungono come me una felicità inferiore quando sarebbe stato tanto facile ottenere una maggiore gloria ci sono 210 persone collegate in diretta ricordatevele queste cose e molti che ascolteranno indifferiti io vedo i numeri di queste catechesi sono in proporzione della mia media superiori mettetele a frutto non dimenticatele peccato che raggiungono come me una felicità inferiore quando sarebbe stato guardate che i meriti i meriti li acquisiamo sulla terra finita la vita terrena è finito dopo fate pure il purgatorio fino al giudizio universale poi soffri tantissimo in purgatorio i meriti non aumentano se tu sei arrivato supponiamo in una scala da 0 a 10.000 a 100 rimani 100 per tutta l'eternità non cambia sta cosa ma si può essere così deficienti perdonatevi deficienti in senso etimologico mancanti significa deficienti e mancanti di questo perché è sempre un problema di cervello quali sono le cose importanti nella vita io ogni tanto concludo l'ho detto all'inizio ieri abbiamo fatto le mille Giuseppe io ogni tanto sapete che c'è stanno persone che seguono in diretta eroi ieri sono arrivati fino alla fine all'ultimo eravamo 58 58 mille avevi Giuseppe insomma non è che soltanto po' ogni tanto mi guardo quelli che mi stanno intorno che a una certa te li vedo con due occhi così che stanno aggrepate sonno e mi sento in colpa dico guarda questi mi è venito appresso mi fa dormi mai disgraziato che non sei altro dopo però elettifico dico eh sì è una bella croce è una bella botta perché quando suona l'ultima per Giuseppe cioè se uno ce l'avesse andrebbe a suonare campana a festa eh però è fatta ieri sera l'hanno fatta Eita dicono a Roma è andata blindata meriti acquisiti è andata se non l'avessero fatto non era andata boh mi viene a metterare che tutti i dati lo fanno forza l'Italia di Giuseppe capito quello che sto a Dino però accumuliamo tesori per il cielo avete visto Jeff Bezos che continua a fare un sacco di sordi che se campasse 10.000 anni non se li potrebbe spendere tutti ma anche a comprasse 300 ogget privati o cose del genere noi dobbiamo fare Jeff Bezos del paradiso cioè alla di essere proprio un gordo di accumulare come una forse nato cioè devi avere tanti di quei meriti tantissimi poi con i peccati me ne sto pure il purgatorio fino al giudizio universale però con tanti meriti quelli non si toccano perché fatto il purgatorio quelli rimangono bene amici poi da domani mondo fermo ancora di più la Santa Pasqua a tutti mi raccomando tutti con Gesù a fargli compagnia e a ringraziare perché se lui non avessi fatto tutto quello che aveva fatto tutti questi bei discorsi che ci stiamo facendo non avremmo mai nemmeno cominciati e quindi rote e gloria al nostro grande Dio Salvatore il Redentore il Signore nostro Gesù Cristo una santa notte a tutti amici Dio vi benedica la Madonna vi protegga grazie a tutti